assalto agli hub vaccinali ora muraglia apre solo suo appuntamento taglio del nastro al potenziato depuratore di borgheria turismo archeologico un tesoro da valorizzare col concerto di capodanno parte la stagione di sinfonica 3.0 una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa serata di venerdì 3 dicembre apriamo parlando di vaccini nella regione marche un argomento che si dirama su più temi vedi il fatto che dal primo dicembre è stata infatti aperta a tutti i maggiore di la prenotazione alla terza dose vedi pure il fatto che dal lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il super green pass il risultato è che c'è stata una presa d'assalto agli hub in concomitanza la coesistenza di vaccini per prenotati e per chi è senza appuntamento intanto eppure è arrivato l'ok alle vaccinazioni per i bambini dal 16 di dicembre tanti temi che andiamo ad approfondire in questo primo servizio evitare inutili attese e disagio ai cittadini mantenendo comunque alto il ritmo di somministrazioni giornaliere è questo l'obiettivo dell'azienda ospedaliera Marche Nord che decide di cambiare passo sulle modalità di accesso al punto vaccinale di muraglia che è stato preso d'assalto negli ultimi giorni per i cittadini che volevano ottenere la terza dose anche per effetto delle nuove disposizioni ministeriali dal 6 dicembre al punto vaccinale di via lombroso si accederà infatti solo su prenotazione dopo gli recenti rallentamenti nella gestione delle somministrazioni che hanno impegnato oltremodo il personale per far fronte alle molteplici richieste al lab di muraglia dunque solo su prenotazione mentre a quello del rossini center così come a fano e orbino dopo un'alternanza fra mattina e pomeriggio ora si torna a vaccinare la popolazione 12 ore al giorno con l'obiettivo di arrivare a 2700 dosi giornaliere si ricorda che le terze dosi dal primo dicembre sono aperte a tutti i maggiorenni che hanno effettuato la seconda dose dalmeno cinque mesi dallo scorso 22 novembre si contano 145 mila marchigiani che hanno prenotato la terza inoculazione a breve poi ci saranno anche le prime vaccinazioni per i bambini l'aifa ha dato infatti lo che è la somministrazione del vaccino anti covid anche per la fascia d'età fra i 5 e gli 11 anni e il commissario straordinario figliolo ha risposto col via libera al primo milione e mezzo di dosi pediatriche a partire dal 16 dicembre come verranno somministrate le marche hanno due settimane per organizzarsi tra vaccinazioni dal pediatra o in ospedale acquaroli per il momento esclude lab vaccinale per i bambini non credo che in questo momento sia ipotizzabile credo che in questo momento è ipotizzabile soprattutto è fondamentale la questione dei richiami poi vedremo quello che ci dirà il cts il ministero quelli che saranno le l'orientamento anche le aziende ospedalieri in base a quelli che sono gli input del ministero del comitato tecnico scientifico per noi in questo momento però è fondamentale l'azione del richiamo e mettere in sicurezza tutta quella parte della popolazione che avendo fatto il vaccino tanti mesi fa rischia di aver perso l'immunizzazione intanto per arginare la crescita dei contagi di questa quarta ondata non è da escludere che la regione marche adotti provvedimenti come il ritorno all'obbligo di mascherina all'aperto se ci sarà una necessità particolare cercheremo di comprenderlo e sicuramente tempestivamente come lo scorso anno cercheremo di metterli in campo quindi faremo l'ordinanza per per la mascherina anche all'aperto se sarà necessario e se anche i nostri uffici lo rideranno odio. La settimana si conclude con altri 476 nuovi casi di contagio da covid-19 nelle Marche di cui 112 in provincia di Pesaro e Urbino e un'incidenza che si fissa a 185 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Numeri sostanziosi, numeri preoccupanti se si considera anche la curva di risalita dei ricoveri. Anche oggi se ne contano 6 in più rispetto a ieri con 123 pazienti in degenza in tutta la regione. Un numero parzialmente attenuato dalla cifra invariata delle terapie intensive che restano a 25 ricoveri. Il report odierno conta purtroppo anche due decessi, un uomo di 80 anni di Fano e una donna di 94 anni di Pesaro. Continua a far discutere il post di Facebook del primario del pronto soccorso Umberto Gnudiu, primario del pronto soccorso di Pesaro che ha pubblicamente espresso il suo disprezzo per i Novax nonostante la sua dedizione a prendersi cura come impone la sua professione. Diversi esposti sono arrivati sul tavolo dell'Ordine dei Medici il cui presidente Paolo Maria Battistini ha solidarizzato con lo sfogo del collega sottoscrivendo l'irresponsabilità di chi non si vaccina. Gli esposti e le segnalazioni saranno ora valutate come da prassi dal prossimo consiglio dell'Ordine dei Medici. Marche Multiservizi ha inaugurato oggi il potenziato e rinnovato depuratore di strada Borgeria, un grande intervento migliorativo al trattamento delle acque della rete fognaria del quale beneficerà tutto il nostro ambiente. Da oggi le acque del mare di Pesaro saranno ancora più pulite e questo è uno degli effetti del completamento dei lavori all'impianto di depurazione al depuratore di strada Borgeria qui dove ci troviamo ora un depuratore che migliorerà la qualità del trattamento delle acque provenienti dalla nostra rete fognaria. Qui tra vasche di arrivo liquami, vasche di stoccaggio, c'è un trattamento innovativo su un impianto che è vecchio dagli anni 70 che dunque ha avuto diverse fasi di vita, ora si arriva alla fase migliorativa assoluta. Con questo intervento di adeguamento e ampliamento del depuratore si chiude un procedimento di infrazione comunitaria partito nel 2009. Ora gli interventi sono tarati sul fabbisogno di 116 mila abitanti equivalenti a oltre 9 miliardi di litri di acque trattate all'anno, trattamento che consentirà di restituire in ambiente un'acqua ancora più povera di azota e fosforo e con una carica batterica e microparticelle in sospensione praticamente inesistenti. In questa sezione nella vasca biologica crescono i batteri che si nutrono degli inquinanti organici alternando due diverse fasi anossica e aerobica che grazie a questa nuova tecnologia avvengono con maggiore efficienza e risparmio di energia. Si completa il progetto complessivo della depurazione di tutta la città, oggi possiamo dire che gli abitanti e le attività di Pesaro sono depurate al 98% quindi praticamente completamente, usciamo dall'infrazione comunitaria che sappiamo essere non solo a Pesaro ma c'era anche a Urbino in altre realtà, quindi diciamo che è un contributo importante su quello che è l'aspetto ambientale sia del fiume Foglia che della balneazione del mare Adriatico, quindi possiamo dire che dopo i depuratori di Trieste e Rimini che sono stati completamente rinnovati, anche l'impianto di Borgeria che passa da 90 mila abitanti a 115 e da oggi la possibilità di avere tutte le tecnologie migliori e innovative contribuisce notevolmente al miglioramento della qualità dell'ecosistema dell'Adriatico. È un investimento importante, complessivamente parliamo di oltre 26 milioni di euro e ha richiesto competenza e professionalità perché vorrei evidenziare che questo progetto è stato realizzato e completato avendo il depuratore comunque sempre in funzione, quindi è come potenziare e modernare un motore di una macchina mentre la macchina va. Marche Multiservizio ormai da diversi anni sta improntando la sua azione sulla sostenibilità ambientale, penso che questo possa rappresentare il giusto percorso per tutto il nostro territorio, sia per dare risposte a carattere provinciale, sia per dare risposte a carattere regionale, sia sull'impiantistica, sia sull'approvvigionamento idrico e questo può rappresentare e rappresenterà perché poi all'interno del Consiglio di Amministrazione abbiamo dato anche queste indicazioni, un punto di divulgazione scientifica aperto alle scuole e ai cittadini per far partire una nuova coscienza di carattere ambientale e penso che possa rappresentare questo il miglior percorso possibile per una nuova cultura ambientale. L'importanza dell'intervento è stata misurata anche dall'importanza delle personalità presenti a questa inaugurazione, a cominciare dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che in un lungo intervento ha sottolineato anche l'importanza non solo di questo intervento ma di tanta programmazione per evitare ulteriori crisi idriche che continuano a susseguirsi estate dopo estate. Oltre a Ricci, presente l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, il prefetto, il questore ma soprattutto ad applaudire questa inaugurazione anche Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Per noi è un po' un modo per continuare una catena, noi affacciamo quasi tutta la nostra presenza sull'Adriatico che è l'altro beneficiario di questa operazione e lo facciamo quindi quasi a completamento di un percorso che ci vede impegnati su operazioni analoghe da Trieste in giù fino a oltre Pesaro e quindi per noi era un coronamento di un percorso importantissimo. Le telecamere di Rossini TV si sono accese ieri anche a Senigaglia dove si è tenuto un convegno organizzato dalla Regione Marche sul futuro della rigenerazione urbana, un tema sul quale il nostro Antonio Astuti ha intervistato l'assessore regionale all'edilizia Stefano Aguzzi per illustrare le prospettive di una riforma regionale di legge urbanistica. Se prima della pandemia, fino a due anni fa, c'era una forte crisi dell'edilizia, oggi terminata la pandemia c'è stata sotto questo punto di vista un rimbalzo talmente forte grazie anche delle normative, il 110% eccetera, che porta ad una fase del tutto inaspettata. Oggi non si trovano le imprese per poter mettere sui cantieri, i comuni non riescono a dare le risposte alle tante domande che gli arrivano perché non hanno i tecnici comunali. Dopo dieci anni di crisi i tecnici comunali sono diminuiti perché non ce n'era bisogno e oggi invece mancano, un po' come gli anestesisti nelle terapie intensive per capirci. Chi l'avrebbe mai detto che oggi una ditta sarebbe stata in difficoltà a impiantare un cantiere perché non trovano le armature da poter costruire, mettere sui cantieri. Una fase completamente inedita ed in questa fase completamente inedita noi dobbiamo far di tutto per interpretare nel miglior modo possibile le esigenze di prospettiva e consentire uno sviluppo armonioso, utile, sano di questo settore nei prossimi anni. Due, abbiamo in questo momento l'esigenza fortissima di sburocratizzare al massimo le attività legate alle pratiche edilizie, alla rigenerazione urbana, al risanamento dei nostri quartieri, alle nuove costruzioni quando si pongono le costruzioni e soprattutto all'efficientamento energetico delle nostre costruzioni e quindi alla loro ristrutturazione. Su questo siamo già intervenuti con la legge 22 che abbiamo approvato in consiglio regionale pochissimi mesi fa e che consente alle ditte e quindi ai proprietari di poter abbattere e rifare interamente i propri fabbricati considerandoli semplici e ristrutturazione. Quindi potendo accedere al piano casa, potendo accedere al 110%, potendo accedere al pagamento del 50% di onere d'urbanizzazione e soprattutto a deficientare tante case vecchie, tanti condomini vecchi che in questo modo vedono di nuovo nuova vita. Adesso inizia la grande sfida. Dopo 29 anni, dopo tutti questi cambiamenti, dopo tutte queste fasi, oggi anche del tutto inedite, occorre mettere in mano una nuova legge urbanistica. E se una nuova legge urbanistica ha alcuna presunzione di avere la ricetta in mano per come deve essere fatta, per come deve essere portata avanti, per come deve essere pensata, sicuramente faremmo un grosso buco nell'acqua. Provincia di Pesaro Urbino protagonista alla recente Borsa del Turismo Archeologico di Pestum, un settore che è stato valorizzato dall'itinerario archeologico di Confcommercio Pesaro Urbino, un settore che punta a cambiare passo in termini di valorizzazione, come ci spiega appunto il direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Noi abbiamo nella nostra provincia un patrimonio incredibile dal punto di vista archeologico. In fondo da noi passa la Consolare Flaminia, la strada che i romani hanno creato e realizzato nel 220 di Anticristo per portare i romani dal Tirreno all'Adriatico, a Rimini e lungo la Consolare Flaminia ci sono delle realtà straordinarie dal punto di vista culturale e turistico. Penso al Parco archeologico e al Museo Vernarecci di Fossombrone, peraltro il Museo Vernarecci è gestito da noi in convenzione con il Comune. Penso alla Fano Romana, quindi alla storia della Basilica di Vitruvio, alla città sotterranea, all'Arco d'Augusto, le mura romane più lunghe e meglio conservate dopo Roma. Penso a Pesaro, al Pisaurum, ai mosaici del Duomo, al Domus di Via dell'Abbondanza, il Parco archeologico di Colombarone, la Stelle di Novilara, cioè noi abbiamo un patrimonio enorme, per non parlare poi dei bronzi dorati di Pergola, Pergola è il museo unico al mondo perché non esiste in nessun'altra parte del mondo un gruppo equestre di bronzo dorato primo secolo a.C. di quelle dimensioni. Quindi è un patrimonio enorme che dobbiamo valorizzare, poco valorizzato nel corso degli anni, noi l'abbiamo inserito come uno dei cluster più importanti all'interno del nostro progetto itinerario della bellezza e insieme a queste rarissime eccellenze c'è poi tutto il percorso lungo la Flaminia, Cagli con il museo archeologico, con il Ponte Maglio, c'è la sala dei mosaici di Saltara, il Mos, anche questa recentemente oggetto di un restauro, i mosaici e anche di una creazione di una sala immersiva, molto interessante. Penso alla grotta Ipogeo di Piagge che non è del periodo romano ma poco importa, voglio dire non sappiamo nemmeno cosa rappresentasse, probabilmente all'interno di questa grotta che invito tutti a visitare ci sono dei simboli religiosi, probabilmente in passato poteva essere anche una basilica paleocristiana, qualcosa del genere. Quindi abbiamo eccellenze straordinarie che possono portare tanti turisti nei nostri comuni se all'apertura dei musei abbiniamo anche un'attività di comunicazione e di promozione. Tenere aperti i musei come fanno alcuni, stando seduti davanti alla porta, aspettare i turisti non serve a nulla. Noi abbiniamo alla gestione dei musei un'attività di promozione e di comunicazione che ha portato tanti risultati positivi, penso al fatto che ad esempio Fossombrone da quando gestiamo noi in convenzione con il comune i musei, anche quello archeologico, oltre a collaborare con gli archeologi per il parco archeologico, siamo passati da 900 visitatori a oltre 5.000 visitatori paganti. La stessa cosa vale per Pergola ovviamente. Quindi su questo noi ci stiamo lavorando, abbiamo presentato la seconda edizione dell'itinerario archeologico a Pestum, versione rinnovata e già stiamo lavorando all'edizione prossima perché con l'inserimento nell'itinerario della bellezza di altri comuni rifaremo una nuova edizione per valorizzare anche questi altri luoghi. Parliamo dei musei civici di Pesaro dove è stato completato il restauro della Pala Bellini che lunedì riporterà l'incoronazione della Vergine nel suo assetto per poi essere restituita al pubblico dopo la manutenzione straordinaria che è partita a ottobre. Un lavoro articolato condotto all'interno della Sala Bellini sotto lo sguardo dei visitatori dei musei civici che in queste settimane hanno potuto assistere al cantiere. Il restauro è stato finanziato da fondi ministeriali per 36 mila euro mentre il comune ha coperto 12 mila 800 euro di spese per operazioni di movimentazione della tavola e per le indagini diagnostiche. Martedì alle 18.30 verrà presentato l'intervento alla presenza del sindaco Ricci e della soprintendente Cecilia Carlo Rosi. Riparte la stagione 2022 di Sinfonica 3.0, otto appuntamenti con l'orchestra Sinfonica Rossini che partiranno dal concerto di Capodanno in una stagione contrassegnata anche dal decimo anniversario del sostegno di Xanitalia a Sinfonica 3.0, stagione che ci viene illustrata in questa intervista al presidente dell'orchestra Saul Salucci. Presentiamo il segmento principale dell'orchestra Sinfonica Rossini che è la stagione Sinfonica 3.0 a Pesaro. Partiamo da un evento importante, il decimo anniversario del sostegno dell'azienda Xanitalia a Sinfonica 3.0. Per noi è importantissimo, è un sostegno che va nella direzione del territorio assieme al suo patron Franco Signoretti, abbiamo sempre pensato che dovesse essere giusto sostenere un'orchestra, sostenendo un'orchestra si sostengono gli artisti. E poi la mentalità sia di Signoretti che dell'orchestra Sinfonica Rossini è quella di proporre spettacoli che possono avere un pubblico eterogeneo e quindi la musica un po' per tutti come forma di godimento condiviso. Saranno otto appuntamenti, sei in abbonamento, quindi consiglio a tutti di verificare la biglietteria perché ci sono delle belle offerte e partiamo dal concerto di Capodanno. Al concerto di Capodanno avremo il nostro direttore artistico Daniele Agiman e quest'anno ospiteremo uno straordinario violoncellista Giovanni Gnocchi e ci proporrà il concerto per violoncello di Shostakovich e faremo anche lo schiaccianoci di Tchaikovsky proprio per la cittadinanza. Poi passiamo al 21 gennaio con un'altra ospitata importante, Gaetano Di Bacco, sassofonista e l'orchestra sarà diretta da Diego Ceretta, sicuramente uno dei giovani direttori più interessanti dell'intero circuito. C'è un appuntamento nella settimana rossiniana una cenerentola, cenerentola opera di Rossini, prosegue l'attività di opere smart che fa l'orchestra Rossini, abbiamo fatto una volta il barbiere di Siviglia e poi assieme al comune di Pesaro abbiamo portato in giro in tutto il mondo. Variamo un nuovo progetto, cenerentola, sostituiamo i cantanti con dei ballerini, quindi è un'opera smart in danza. Poi si passa al Pesaro Music Awards, un evento importante in cui Pesaro, città unesco per la musica, celebra l'eccellenza. Nelle prime due edizioni avevamo avuto Daniela Barcellona e Mariella De Via, quest'anno ci saranno premiati di altrettanta fama. Poi passiamo a un concerto particolare in cui vogliamo sostenere anche altre culture. L'8 aprile è la giornata mondiale a sostegno dei Sinti e dei Rom. La musica romani è una musica molto bella, folcloristica, piena di gioia e assieme a Santino Spinelli ci esibiremo sullo stesso palco strumentisti della musica romani e i nostri professori d'orchestra. Ci saranno le due serate dei giovani in crescendo, ormai concorso per scuole di musica molto noto a livello nazionale e internazionale e termineremo proprio con forse il concerto simbolo di questa stagione che si intitola Make Your Wish, esprimi il tuo desiderio. Al termine dei concerti, quelli crossover, soprattutto a me e a Roberto Molinelli arrivano spettatori che puntualmente ci dicono bellissima questa serata, sapete io cosa farei? E allora abbiamo in questo caso deciso di sfidare il pubblico a mandarci i loro pareri dalla musica italiana a rock, a qualsiasi cosa, pop, a qualsiasi genere e ovviamente la maestria di Roberto Molinelli permetterà la realizzazione dei desideri. È una stagione che prevede altri appuntamenti particolari perché abbiamo voluto anche mettere Xan Italia 10 come brand aggiuntivo e ci saranno iniziative per i giovani, il pubblico e gli artisti che andremo a raccontare in questi sei mesi che sarà il periodo in cui ci accompagnerà Sinfonica 3.0. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordo come sempre qualche appuntamento. Per chi ci segue nella prima edizione del TG ricordiamo che alle 20 come ogni venerdì c'è il Vallefoglia, il Pian del Bruscolo Magazine, il telegiornale di questo territorio realizzato da Andrea Sabatini e Edoardo Orazzi. La nostra prima serata di questo venerdì alle 21.20 parte con la scuola e con l'approfondimento all'orientamento scolastico del liceo artistico Mengaroni. Alle 21.40 invece una grande serata dedicata al ciclismo, quella che Rossini TV ha ripreso al CA Virginia Bike Hotel in un evento realizzato con Fisio Radi. Vi ricordiamo anche un appuntamento di domani, sabato 4 dicembre alle 13.30. Torna il format WePesero TV realizzato in collaborazione con il Comune di Pesero. Ospite di Antonio Astuti sarà l'assessore al rigore Riccardo Pozzi. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro un buon weekend e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.